Sarà il Presidente della Regione Stefano Bonaccini a tagliare il nastro della 35esima edizione di Macfrut, vetrina internazionale dell'ortofrutta, che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 9 all'11 maggio. Presente all'inaugurazione anche Juan Guglielmo Zuluaga Cardona, Ministro dell'Agricoltura della Colombia, Paese Partner nel 2018, l'Assessore all'Agricoltura della Regione Veneto e Paolo De Castro, Vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo. La rassegna si presenta con numeri in crescita, 8 padiglioni su un'area di oltre 55.000 m2, 1.100 espositori, un quarto dei quali esteri, oltre 1.500 buyer invitati da tutto il mondo e un centinaio tra convegni, incontri e seminari per fare il punto sul sistema ortofrutticolo internazionale. Sul piano internazionale appunto, il 25% degli espositori sarà di oltre confine per una rappresentanza di oltre 40 Paesi. Significativa nel percorso di internazionalizzazione, il sostegno dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha visto la selezione di 150 operatori provenienti da circa 30 Paesi. Una grande novità è l'area dinamica Aquacampus, un campo dimostrativo di 500 m2, dove si possono vedere gli impianti di irrigazione tecnologicamente più avanzati, presentati dalle aziende leader. Sono inoltre un centinaio, come abbiamo già detto, gli eventi in programma, tra convegni, meeting aziendali, convention organizzate direttamente dagli espositori, con il grande sumite europeo sui frutti tropicali.